Vedrei che stai diventando piano piano un tanghiero. Beh, diciamo che ci stiamo impegnando molto. All'inizio era una cosa difficilissima, nel senso che all'inizio sembrava la cosa più difficile del mondo, però adesso siamo già arrivati a buon punto della prima coreografia, perciò... Ancora abbiamo i dolori neppertutto, però la coreografia piano piano si sta formando. Sì.